Grazie a tutti. Cambiamo leggermente l'ordine per questioni organizzative, quindi cominciamo con Tiziana Motta del Consorzio Topics, benvenuta sul palco per presentare il servizio di streaming del Consorzio Topics. Buongiorno a tutti, veramente pochi minuti sul palco per alzare un po' le quote rosa della giornata perché erano un po' carenti e per presentarvi i servizi di streaming del Consorzio. Come voi sapete il Consorzio Topics si occupa di streaming da circa una ventina d'anni, ma sono stati gli anni della pandemia che hanno dato un grosso impulso a tutti quelli che sono stati i nostri servizi e ci hanno permesso anche di standardizzare un po' l'offerta che vado appunto a presentarvi. Nei progetti di streaming del Consorzio lavorano a vario titolo tantissimi colleghi, diverse professionalità, la parte di rete, i sistemisti che si occupano ovviamente dei flussi, dei server, il team delle riprese di cui vedete una parte qua, abbiamo poi al nostro interno anche competenze di tipo giornalistico e di organizzazione di eventi. Questi sono i nostri servizi, velocissimamente. Allora, ovviamente le riprese live degli eventi dove ci occupiamo di tutto il pacchetto, quindi dalla location alle riprese, alla regia, ai player con varie richieste, traduzioni, eccetera. Abbiamo anche la possibilità, realizziamo, ne abbiamo moltissime librerie on demand che teniamo noi appunto sui nostri server. Noi abbiamo fatto su Impulso della Regione Piemonte un bellissimo progetto di digitalizzazione delle radio locali piemontesi che è rimasto diciamo uno dei servizi a cui siamo forse più affezionati, adesso abbiamo circa una trentina di radio che ospitiamo. Abbiamo la nostra piattaforma di streaming proprietaria, infatti prima Vittorio diceva 4-5 player che controllano tutto il mercato, i regimi non li fanno passare, vi informo che Topics passa, invece non è fra questi 4-5. Quindi se avete degli streaming in Cina e in Iran noi riusciamo. Alla fine abbiamo anche, che lavora molto, un team che si occupa di realizzare dei video anche più istituzionali oppure più pubblicitari. Ha proprio legato questo servizio di video, abbiamo una serie di competenze di montaggio e postproduzione, editing, realizzazione di musica, che insomma è tutto quello che comporta e proprio diciamo su richiesta di molti dei nostri clienti abbiamo anche realizzato un sistema di biglietteria diciamo così elettronica che consente gli accessi ai player di streaming in base ai criteri che decidiamo. Questo è una piccola sintesi dei maggiori clienti con cui lavoriamo, quest'anno è stato il diciassettesimo anno di fila che abbiamo collaborato col Festival del Cinema di Berlino per gli streaming delle loro conferenze stampa e da quest'anno da luglio siamo diventati l'officio al streaming service dell'Università di Torino, quindi sono già diversi mesi che collaboriamo con loro. Come promesso, super veloce, questo è l'indirizzo del sito se volete contattarci. Grazie mille. Grazie Tuziana. Grazie.